Precipitazioni sempre più in diminuzione nei mesi estivi, criticità sulle distribuzioni nell'arco dell'anno, il cambiamento climatico che trasforma rapidamente gli scenari conosciuti fino ad oggi e la necessità di intervenire adottando soluzioni strategiche in grado di mettere il territorio a riparo da crisi ed emergenze idriche. Sono le tematiche trattate nella conferenza di questa mattina organizzata da Marche Multiservizi per discutere delle sfide attuali e future relative all'approvvigionamento dell'acqua anche sul nostro territorio. Diverse sono le criticità dell'approvvigionamento idrico presenti nella provincia di Pesaro Urbino, che conta una rete idrica di 5.000 km con 107 impianti di depurazione, 529 captazioni e 700 serbatoi di accumulo. Tra le principali problematiche, l'eccessiva dipendenza dell'approvvigionamento da fonti superficiali e la scarsa interconnessione tra i principali acquedotti. Ormai da diversi anni Marche Multiservizi, in accordo con i sindaci e con Nato, sta mettendo in campo delle azioni condivise che vanno nella giusta direzione, quindi quello dell'efficientamento della rete, della riduzione delle perdite, della gestione da remoto con un'interazione intelligente sul territorio. È normale che in un contesto idrico la siccità diventa una situazione molto delicata da gestire. Abbiamo visto anche in altri territori regionali già mettere in campo delle azioni di razionamento della risorsa idrica. Ancora da noi non è così perché negli anni abbiamo messo a sistema questi vari interventi. e proprio attraverso questa dimensione cerchiamo di individuare delle strategie, delle azioni da mettere in campo nel medio e nel lungo termine attraverso la scienza. Il cambiamento climatico sta producendo e produrrà i suoi effetti sempre più gravi, riducendo quella che è la disponibilità dell'acqua dolce e quindi ad uso umano e quindi credo che l'uomo, in questo caso ovviamente nella provincia di Peso Rubino, debba farsi carico di fare anche delle scelte coraggiose e importanti che guardano avanti lustri e lustri e decenni in modo tale da garantire la vita. La giornata di oggi l'abbiamo organizzata proprio a luce anche della disponibilità di alcuni rappresentanti dell'Istituto Metrologico del Serpieri e dell'Università di Urbino proprio per avere anche il supporto e la presenza della scienza in modo tale che ci possa aiutare a fare le scelte giuste. Poi è chiaro che Marche Multiservizi è il gestore, quindi non spetta solo noi. Noi possiamo essere un soggetto proponente, come dicevo, vogliamo essere un soggetto importante a supporto delle amministrazioni e dei territori ma ovviamente ognuno deve poi assumersi le proprie responsabilità e le proprie decisioni a cui competono. La situazione contingente è una situazione molto precaria, nel senso che abbiamo ormai un anno e mezzo l'andamento delle precipitazioni che è in deciso diminuzione. Il problema principale che abbiamo riscontrato non è tanto la carenza delle precipitazioni quanto la distribuzione di questa nell'arco temporale di un anno e soprattutto la variabile diciamo più difficile da contenere è quella della variazione della temperatura. L'aumento delle temperature che è sconsiderato in questi ultimi vent'anni, soprattutto nel periodo estivo, porta all'estremizzazione dei fenomeni e l'estremizzazione dei fenomeni non è sicuramente favorevole o positiva nel discorso del recupero delle acque piovane. Possiamo dire che le caratteristiche meteorologiche nel corso di questi ultimi 20-30 anni, con il cambiamento e l'aumento delle temperature, è andato a erodere la primavera e l'autunno. Quindi ormai abbiamo un'estate che possiamo considerare quasi di 5-6 mesi, quasi metà dell'anno è considerata a carattere tipico estivo nel nostro territorio.